Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV Ciao, buongiorno Sole, pioggia, sole, pioggia Davvero, guarda, non se ne può più Meno male che ancora non ho più sofferto il freddore Perché sai, con questi cambiamenti di clima è facile prenderle Vabbè, speriamo che venga quest'estate Dai, ora dice che arriva la bolla di caldo che arriverà nel sud fino a 35 gradi La bolla? Sì, un po' domenica magari siamo a 18 un'altra volta Vabbè, qui insomma Quindi la gente come te che ha qualche problema di salute E' più che altre allergie sinceramente A cosa? Ah non, non si sa Anzi, subito male, no? No, tu Senti, siamo tornati al Pionta Non so se ci eravamo mai stati Con Massimo sì Ma io e te mi sa di no No, siamo andati qua vicino alla palestra Sì, dirà Perché in consiglio comunale è tornato nell'ultima seduta la questione del Pionta Francesco Romizzi di Arezzo in Comune Ha detto sostanzialmente La riqualificazione del Pionta 13 ettari con grandi funzioni pubbliche Formative e sanitarie è ancora latitante La precedente amministrazione aveva stipulato Un accordo di programma con gli altri enti proprietari dell'area 200 mila euro a lavori stradali Manutenzione all'area 50 mila Impianto di illuminazione con 100 punti luce Senti qua, e telecamere Ancora questa gara non risulta indetta La questione del Pionta è sentita Dalla popolazione per motivi di sicurezza Per il degrado Abbiamo visto già lo squarcio di queste palazzine abbandonate Presenza di studenti universitari Voglio sapere, senti con me Buro Romizzi La ragione di questo immobilismo E Gianfrancesco Camurrini dice Le difficoltà di quest'ultimo periodo Sono derivate dalla variazione del codice degli appalti E dalla priorità data degli uffici Ad altre questioni Una risposta Burocratica E' stato il fatto che qui è tutto così E' stato il fatto che qui non c'è più niente da ristrutturare Qui c'è da abbattere e basta Qui c'è da abbattere e basta Eventualmente ricostruire Ma se c'è necessità Non lo so io Se la ASL ha bisogno di altre strutture Perché altrimenti penso che qui farebbero prima A abbattere tutte e faccio un bel piazzale Eh sì perché siamo veramente nel campus universitario Guarda qua Guarda qua L'hanno transennato, non è poco Se necessario bene Altrimenti questa Secondo me fanno prima a batterla Perché qui ristrutturare questa Non so che ci sia di buono a questo punto qui Sicuramente il tetto non c'è più Le infiltrazioni piovani hanno rovinato tutto Quindi Penso che sarebbe l'ora di iniziare a fare qualcosa per davvero Perché in effetti l'area Qui almeno in questi punti qui è stata abbastanza ripristinata Quindi sarebbe bello appunto anche togliere questo scenità Che c'è rimasto qui in mezzo Poi dopo logicamente i punti di luce e le telecamere saranno durante il parco Il parco Poi da qui ci si va Siamo già a parte dei telecamere Sì esatto È molto bello Ci sono campi di calcio Campi di calcetto Verde È il più bel parco d'Arezzo È uno dei più bel parchi d'Arezzo All'interno ci sono punti anche dislivelli Che lo vengono verde Esatto È bello La domanda è questa Se questi lavori sono finanziati Perché non partono C'è priorità ad altre cose A questo non lo so L'assessore Gamorini ha risposto in burocratese Quindi non si è capito il perché Per come ritardano così tanto Io direi l'assessore Gamorini Invece di fare il burocratese E di rispondere così in modo sibillino Risponda come si deve E dica effettivamente come stanno le cose E i tempi esatti che ci vorranno Perché altrimenti Più si va là nel tempo Più si è tirata Più i soldi spariscono Più i costi aumentano Quindi i lavori non si fanno E i lavori non si fanno Quindi E diciamo Assessore Vice sindaco Si è idea da fare E porti avanti Questa risoluzione Questo problema In un'area così importante Per la città Sia per quanto riguarda Il Verdi Sia per quanto riguarda Il vissuto Dell'università Sia per quanto riguarda L'ASL Perché qui poi siamo A due parti dell'ospedale Si fa anche Nelle parti dell'ospedale Quindi Penso che si dovrebbe Tanto a fare E trovare un sistema Cioè Questo protocollo Che sarà tantissimi anni fa Quindi sicuramente c'è stato Sicuramente Prima nel 2007 2008 No 2009 2010 Protocollo con l'ASL Università In comune Ci invitarono Tutti i giornalisti Per cui la firma Di questi protocolli Finalmente Io se si andasse a vedere Tutti i protocolli Che sono stati fatti Era di moda Fare un protocollo Facciamo un bel protocollo E tutto di soldi Quindi c'è stato sicuramente Un enorme immobilismo Della giunta precedente Adesso Però Se è tutto finanziato Andiamo avanti E diamo A cittadini Una risposta seria Perché insomma Che quest'area così Continua a essere ridotta In questo modo È veramente È indecoroso Indecoroso Tra l'altro è stato un tema Della campagna elettorale Perché comunque qua Nel pionta Intendo pionta In senso largo Lato Ci sono stati Ci sono stati morti C'è Lo spaccio Ogni settimana Ci sono delle operazioni Antidroga Quindi se lo riqualifichiamo È vero che non lo puoi controllare A tappeto Continuamente Però magari questi fenomeni Vanno da un'altra parte Esatto Si mantiene anche ogni tanto Qualche punto di luce Qualche occhio Che vede sicuramente Distoglie Certe persone Che vogliono Delinquere Oppure farsi Ad andare ad altre parti E lasciare libero Questa zona L'opposizione A domani Ciao